La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia deciderà a ricorso la Corte Costituzionale contro la decisione del Governo di chiudere il Tribunale di Tolmezzo. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Renzo Tondo, intervenuto all'Assemblea Permanente a salvaguardia degli uffici giudiziari del Capologo Carnico, promosso dal locale Ordine degli Avvocati. Noi riteniamo che questa sia una decisione sbagliata da parte del Governo che si inserisce in un contesto di mancanza di dialogo con le autonomie regionali. Abbiamo già dimostrato di saper attuare concretamente una nostra spending review, anzi l'abbiamo avviata prima del Presidente Monti. Non possiamo accettare che si continui ad imporci dei tagli. Non ci rimane che ricorrere alla Suprema Corte per eccesso di delega in quanto provvedimento contrario allo Statuto della Regione.